Quello di questa mattina è stato un momento importante per la Ollus Gulliver, che da bottegone del riuso ha deciso da qualche mese di porre l'attenzione anche sul recupero dei prodotti alimentari deperibili. Ed è così che oggi è partita ufficialmente la prima collaborazione con un supermercato del territorio, quello del Conad del Porto in Via Canale. Da oggi iniziamo il recupero alimentare quotidiano in questo esercizio commerciale. Grazie alla legge Gadda, il Conad o altri esercizi commerciali che vorranno aderire potranno recuperare il valore commerciale del bene. Questi beni saranno poi distribuiti a tutte le famiglie bisognose che Gulliver segue in città, quindi 400 persone che quotidianamente prendono il pacco alimentare in Gulliver. Parliamo di verdura, di mozzarella, di qualunque cosa il Conad ha in prossimità di scadenza, ci donerà. Noi lo distribuiremo grazie ai nostri volontari e grazie a tutte le famiglie che credono in Gulliver. Il nostro invito forte è quello anche agli altri esercizi commerciali di partecipare a questo grande progetto, che ripeto inizia oggi, è un progetto bellissimo e generativo. Siamo felicissimi di partire con questo progetto grazie alla collaborazione che è partita da tempo con l'Onluz Gulliver, che ci permette tutti i prodotti che vengono ritirati dalla vendita giorni prima per legge che non si possono vendere e li possiamo destinare a persone bisognose e aiutare chi ha bisogno. In una situazione così difficile come in questo periodo, noi diamo il nostro piccolo contributo, perché come dice anche lo stesso nostro slogan, siamo persone oltre le cose. Grazie alla legge Gadda, recuperare il valore commerciale del bene riguarda non solo i supermercati, ma anche le aziende che vendono mobilio o altro. I coni supermercati hanno in giacenza prodotti a fine vita, donandoli la Gulliver che poi li dona le famiglie bisognose possono recuperare il valore commerciale. Le ditte che hanno in magazzino mobili o altre cose che possiamo donare a famiglie bisognose, idem, le donano alla Gulliver e le recupero al valore commerciale. È una legge molto importante, da noi a Pesaro poco conosciuta e quasi per niente sfruttata. Quindi l'invito agli imprenditori, che siano supermercati ma che siano aziende, di donare l'invenduto o i fondi di magazzino che sono ancora cose buone, che possono essere utilizzate per le famiglie bisognose. Pensiamo solamente a una sedia in un magazzino di una ditta che vende sedie o materassi. Queste cose che fermano i danni, che sono ancora buoni, possono essere donate alla Gulliver che poi le gira le famiglie bisognose e l'azienda recupera il valore commerciale. In questo caso parliamo di frutta, verdura, latticini, carne, è un aiuto grandissimo alla comunità. Ripeto, l'invito è di estendere questo progetto anche ad altri punti vendita. Grazie. Grazie. Grazie.